Un progetto che deve essere rivisto quello della velocizzazione della tratta Pescara-Roma. Le criticità sono state illustrate punto per punto dal CONF, Racchieti, ai parlamentari e ai politici locali. Gli esponenti del comitato hanno precisato di non appartenere al movimento del no a prescindere, ma di voler tutelare il territorio, far sì che le risorse del PNRR a disposizione non vadano perse per i quattro lotti, visto che i lavori devono concludersi in questa fase nel 2026. Ermo D'Assolfo, fondatore CONFER. Le soluzioni sono quelle di non impattare sul territorio come effettivamente si è dimostrato con lo studio costi e benefici dell'Università di Torino e quindi rendere la vita vivibile ai cittadini da adesso al 2040, perché nel 2040 si prevede la fine di tutto questo iter per far viaggiare su una linea merci e persone guadagnando veramente pochi minuti. E noi vogliamo proporre, dall'inizio non siamo stati contro qualcosa o qualcuno e quindi abbiamo convocato non soltanto i parlamentari abruzzesi, i consiglieri regionali e ovviamente quelli locali, degli enti locali. Meno diplomatico invece Gianni Di Labbio con FERCHieti che sottolinea le criticità del progetto. Per noi sarà come un vero e proprio terremoto, quindi attraversare i centri urbanizzati delle zone della contrata di Brecciarola e Manopello porterà questo, porterà disagio a tutta la collettività, al di là di tutti gli abbattimenti delle case che verranno fatte fuori, ma il vero problema è di chi resta. Saremo separati in casa con gli amici che stanno dall'altra parte della ferrovia, perché ci sarà un vero e proprio muro di berlino ferroviario, l'abbiamo definito, e poi ci saranno le altre difficoltà legate alla rumorosità, alla criticità della vibrazione che il treno comporta, ma non solo, è il rischio che ci potrebbe essere in caso di derogliamento. Oltre alla demolizione delle case che potrebbero essere secondo Di Labbio molte di più del previsto. Questo perché? Perché RFI, Ferrovie dello Stato, ha permesso, nei 60 anni a questa parte, di costruire ai bordi della ferrovia. Non saranno 83 gli edifici da abbattere, ma saranno 500, 600, saranno Brecciarola e Manopello, dovrebbero essere completamente abbattute. Alternative ci sono? Le avete proposte? Ma io credo che problemi non ce ne siano. C'è tanto di quel terreno da poter sfruttare, addirittura anche andare al di sotto dell'autostrada e poi per sfociare al livello dell'interporto, ma soluzioni ce ne sono. Gli ingegneri che si mettessero sotto a lavorare e trovare la soluzione. Il problema è che abbiamo tempi limitati.